Un nuovo appuntamento per l'estate montemurlese. Torna mercoledì 12 luglio a partire dalle 19 Montemurlo sotto le stelle. Negozi aperti fino a tardi, stand gastronomici e musica tra via Montalese e via Rosselli. Novità dell'edizione 2023, organizzata come sempre dal Comune di Montemurlo e dalla Proloco insieme ai commercianti del centro, è l'iniziativa alla ricerca del selfie perduto. Ho praticamente realizzato delle varie postazioni selfie con una cartina dove sono otto postazioni e insieme ai commercianti si potrà trovare queste otto postazioni per potersi fare i selfie. Poi potrà essere pubblicato e condiviso anche sui social sull'apposito hashtag Montemurlo sotto le stelle 2023. Una manifestazione che cresce di anno in anno. Sono 65 gli estede che animeranno la serata, sempre all'insegna della sicurezza, anche con l'ordinanza firmata dal sindaco Calamai che vieta dalle 19 a luna di notte la vendita di ogni tipo di bevanda alcolico o analcolica da sporto in contenitori di vetro o lattina. Ci sono i commercianti che partecipano, ci sono le associazioni che sono in prima linea, per questo per noi un'estate tutta da vivere, in piena sicurezza, per fortuna dopo la pandemia abbiamo un'iniziativa anche questa senza limitazione, per questo una giornata da vivere davvero in tranquillità e in allegria.